Il futuro di Bormio sarà ecosostenibile, disegnato sul modello delle più importanti stazioni sciistiche delle Alpi, che privilegiano la mobilità dolce, allontanano le auto dei centri storici, creano connessioni tra i percorsi ciclopedonali. Il progetto per la zona del Frodolfo, interamente finanziato dalla regione Lombardia nell'ambito delle opere per le Olimpiadi, trasformerà l'ingresso di Bormio. La rete ciclabile verrà potenziata così da formare un anello da percorrere per spostarsi da una zona all'altra del paese. A collegare i due tronchi di pista ciclabile da una sponda all'altra del torrente sarà una passerella ciclopedonale coperta lunga 60 metri e larga 3,5. Il terzo filone del progetto per l'area del Frodolfo, spiega il sindaco Silvia Cavazzi, è anche il più rappresentativo della nuova visione di Bormio, quello che ci proietta nel futuro perché per il nostro paese puntiamo sulla mobilità dolce, avremo una migliore qualità di vita e più sicurezza. La nuova passerella ciclopedonale consentirà di collegare le due sponde del torrente creando un itinerario dalla pista esistente che corre parallela al Frodolfo a quella che verrà realizzata lungo via Bertola. La struttura della passerella è composta da due travi reticolari in acciaio, mentre nel rivestimento dei fianchi saranno inserite delle fasce di LED per l'illuminazione notturna. L'attuale tracciato verrà sdoppiato per consentire di rimanere su via Bertola e di salire sull'argine per imboccare la passerella sia per chi proviene da est sia da ovest. Una rete ciclabile che si amplia ai due zone da una parte all'altra del Frodolfo che saranno collegate aprendo nuovi itinerari per gli appassionati delle due ruote. Per quanto riguarda i tempi siamo in linea con quanto programmato, conclude l'assessore ai lavori pubblici Oscar Cola, come amministrazione comunale pensiamo all'Olimpiadi manca al prima e al dopo.